Musica Musica Nel nostro parco e nella nostra area marina l'estate non finisce mai. Musica Saranno celebrati domani nella chiesa di Caprino Veronese i funerali di Francesca Mannu, la giovane ragazza sennorese investita da un'auto, mentre attraversava a piedi la provinciale 29 sulle strisce pedonali e deceduta dopo tre giorni di agonia all'ospedale di Borgo Trento. La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Caprino per consentire a tutte le persone di partecipare, ma soprattutto ai parenti e ai tanti amici della giovane che risiedono a Senuri, paese d'origine della ragazza. Ieri sera nel paese Romangino si è tenuta una veglia funebre organizzata dagli amici di Francesca. Alle 20 e 30 decine di persone si sono riunite nel parco di San Biagio, dove è stato osservato un minuto di silenzio mentre le lanterne bianche volavano in cielo. Gli amici hanno raccontato i momenti vissuti con Francesca. Noi siamo Character, ci trovi a Sassari, nella zona industriale Predani e da Alla Strada 28. Stampiamo su grandi formati. Dal 1996 siamo presenti e vicini allo sport e alle attività commerciali per la loro pubblicità con i nostri servizi, al passo con l'innovazione tecnologica. Abbiamo scelto la cartotecnica digitale e ecologica. Character, partner ufficiale di Canale 12. Character, I feel green.